vado velocemente a collegarmi in video con orlando cetta mental coach orlando buongiorno buongiorno rush ben trovato grazie faccio gli auguri a tutti i papà grazie grazie davvero e accogliamo ovviamente questo tuo augurio mi ha fatto ridere questo video perché mi ha riportato indietro all'infanzia quindi l'allenatore nel pallone ovviamente film super storico poi io apprezzo questo quando hanno rifatto il 2 sono un po nostalgico dei dei cut quindi apprezzo molto ovviamente quello originale però perché ho fatto vedere questo spezzone si li deve scherzare si giocava però fondamentalmente io sono sempre rimasto con questo ideale che l'attività fisica sessuale che sia con lo sport con le prestazioni poi agonistiche non era proprio ben vista non so se le cose sono cambiate mental coach da quest'altra parte ovviamente ormanno prepari i professionisti gli sportivi anche per arrivare magari agli anelli capiamoci e io voglio sapere un po dal suo punto di vista come è vista sta cosa del sesso cioè non è che nel 24 in francia saranno tutti i mezzi addormentati allora il fatto del sesso che poteva debilitare deve inficiare sulle prestazioni sportive era una convinzione di tanti anni fa ora e viene vista in maniera diversa nel senso è giusto comunque sia per legare penso un atleta che si prepara quattro anni per un'olimpiade balli ed è concentrato su una gara perché ha dedicato tempo sacrifici e sforzi e quindi farà di tutto per performare al meglio dopodiché per performare al meglio anche un po tempo qualche giorno prima ha bisogno di anziché essere stressato essere ansioso se ha la sua compagnia ha bisogno di intimità per produrre una serie di ormoni tipo dopamina erotonina cose che dovranno più felici piuttosto che lo stress cortisolo che lo vanno a debilitare ancora di più è soggettivo è totalmente soggettivo c'è chi l'ansia invece lo aiuta a produrre quella serie di adrenalina che a lui serve c'è chi invece lo manda in stress produce cortisolo noi siamo biochimica in fondo quindi dipende che sostante che sostanze produrre certo quindi c'è stato è visto è visto in questo modo nel senso a parte che come diceva è una cosa soggettiva quindi ci può stare che magari uno ha bisogno perché si conosce ha bisogno di poter levare questo stress magari 24 ore prima della gara chi 48 chi per niente perché comunque no quattro anni per prepararsi ad un'olimpiade non sono uno scherzo no oltre che non sono uno scherzo per arrivare a quella a quell'evento evento perché l'olimpiade ricordiamo è l'evento per ogni sportivo è la massima espressione sportiva ogni persona ogni atleta ha rinunciato a tanto fino al momento per arrivare lì quindi io sono sicuro che in quelle settimane che precedono questo faranno ogni cosa possibile per performare al meglio quello è il loro sogno il sogno di tutti cioè che poi immaginiamo solo rinunciare un qualcosa per quattro anni il costa quanto gli può costare una settimana se per loro non è non è produttivo se è produttivo e lo devono sfruttare proprio per togliere quella tensione che altrimenti rischiano di arrivare troppo anche troppo tesi il giorno della gara e rischiano di non performare è ripeto è soggettivo ed è ognuno deve conoscere bene il proprio corpo come dici te deve conoscere bene le proprie le proprie sensazioni e su quello c'è tutto il lavoro che hanno già fatto da quattro anni quindi non è lo scopriamo oggi quello che dobbiamo fare allora perdonami quindi è confermata questa cosa lo dico per gli amici che sono a casa in questo momento che stanno guardando magari il programma punto di rottura è confermato che comunque straconfermato che il sesso aiuta a togliere lo stress quindi se c'è qualcuno che magari è sportivo in casa levatevi questa questa cosa un po vecchia un po retro che non fate sesso non fate in sesso se dovete fare sport sono poi non riuscite ad essere performanti la possiamo svecchiare questa cosa no diciamo lo fai dieci minuti prima della gara un conto se lo fai due giorni prima 28 ore prima insomma pure lì dipende sempre da dal momento della situazione quindi sì nel senso non è sì limitante fare sesso dipende che effettua su ogni persona perché c'è chi lo può distogliere da quello che deve fare c'è chi invece è un potenziante è un aiuto per proprio per formare al meglio poi proprio nel momento antecedente all'evento grande evento comunque curiosa questa cosa che la francia in questa olimpiade ha deciso noti di dare questi due preservativi al giorno agli atleti allora è un gesto secondo me molto di immagine nel senso comunque ripeto anni fa 2021 tokyo eravamo sotto covi di un casino vabbè non sto qui a ripetermi però e secondo me è più un gesto di non so di di mandare un messaggio un po verso magari la protezione perché secondo me loro già sanno che gli sportivi a quel livello secondo me magari me lo confermi a livello mentale sono molto più avanzati c'è sanno gestirsi benissimo non si fanno distrarre magari dal da noi che siamo magari un po più ragazzetti no ci potremmo far distrarre a quel livello penso che sei così concentrato che credo che sia più un discorso di immagine di messaggio magari da mandare al mondo quello che ha scelto di fare alle olimpiadi 2 20 24 in francia orlando sì il fatto della prevenzione dell'attenzione della pressione penso che sia un messaggio fondamentale che vogliano mandare quello e fa bene secondo me visto chiaro cioè si parla di tutto ma sembra che certe cose sono come passate nel dimenticatoio che non resistano più per un periodo dove se ne faceva una battaglia mediatica sul prevenzione soprattutto nelle negli ante concezionali come usarli il perché usarli ora si è dimenticato ma ci sono cose che sono sempre lì e quindi non intanto ricordare questi passaggi ricordi la pubblicità di chi è questo ricordi la pubblicità a scuola ci giocavamo di chi è questo allora orlando io devo andare pubblicità voglio ovviamente ringhia ringraziarti come al solito per aver concesso questa chiacchierata come vedete lo dico agli amici che sono a casa si trova in macchina quindi è stato chiamato dalla redazione si è accostato velocemente per poter rispondere e intervenire a questa mia chiacchierata quindi davvero ti ringrazio e a questo punto ci sentiamo prestissimo va benissimo ci sentiamo presto e ti ringrazio questa opportunità mi fa piacere comunque dare un contributo alle persone quindi agli amici grazie da grazie a te grazie a te